Due anni fa ho deciso di studiare in qualche modo quelle che sono le razze tipiche degli uccelli che popolano il nostro territorio e sono nati così dei disegni a BIC molto realistici in realtà che raffiguravano in effetti tutte quelle che sono le razze che puntualmente ogni anno migravano nel nostro territorio. L'uccello non viene più disegnato in maniera reale, non viene più ritratto, però il lavoro di ritrarre un animale alla fine mi sono reso conto che non mi si addiceva più di tanto. Manipolare l'animale invece? Sì. Allora ho incominciato a pensare che un uccellino di una specie fosse cromosomicamente fuso ad un altro uccello, magari uno più grande, una cosa che in natura non può esistere, ma che io reputo divertente e che in realtà è una cosa che facevo da piccolino quando immaginavo delle fusioni esistenti, la sirena per esempio. Allora ho immaginato di far accoppiare, di far crescere una creatura che veniva fuori da un uovo, un uovo che era stato covato da un uccello, ma che in realtà poi ne usciva completamente un altro. Da Cantico, che sono questi uccellini fatti a penna, sono nate due serie nel 2012, nell'anno scorso, Fame d'aria e Flyseek. La serie Fame d'aria è questo lavoro ad acquarello di piccolissimo formato, mi pare un 14 centimetri, rappresenta questi uccellini completamente evanescenti, no? Perché questa è una delle cose belle dell'acquarello, che in realtà non appartengono a nessuna specie conosciuta, a nessuna razza. Allora sono dei gufetti, sono delle civette, o forse sono dei tucani, perché questi vecchi sono troppo grandi. Fame d'aria è un lavoro fantasioso. Insieme, contemporaneamente a Fame d'aria, è nato Flyseek. Flyseek è un'altra serie di apparelli di dimensione media, credo siano 50x70. Il volo di questi uccelli è malato. Vengono rappresentati, ho rappresentato, questi uccelli che non possono volare. È un uccello che non può volare, beh, penso sia la cosa più triste che si possa vedere. Allora ci sono questi tucani, per esempio, che hanno un becco talmente grande, talmente pesante rispetto al loro collo, che rimangono fermi lì. Oppure altri uccellini che hanno delle ali talmente piccole rispetto al busto, rispetto al corpo, che non volerebbero mai, in qualche modo. È per me importante mettere più animali possibili, perché io stesso non so, fino a che il lavoro non è finito, che creatura esce alla fine. Questo è anche il bello dell'acquarello, perché alla fine non sai mai il lavoro come esce, se esce bene o esce male, devi aspettare che si asciuga. Quindi tu lasci la sera, lo studio, il lavoro bagnato, arrivi il giorno dopo, ti trovi l'acquarello che è ben fatto, o non è ben fatto, allora prendilo tutti. Allora i bestiari sono nati dopo due anni di lavoro dedicato all'ornitologia. E non c'è un progetto per quanto riguarda i bestiari, nel senso che io non ho fatto degli schizzi, non ho un'agenda, non ho fatto delle prove con i lucidi, mettendo uno possum, un corvo, un cervo, no? Li unisci insieme, poi disegni, fai quello che esci, no? Sono usciti per caso. Allora incominci dalla testa, la colori e lasci aspetti che si asciuga, eccetera. Poi dalla testa partono delle pinne, dalle pinne parte la coda e le zampe sono quelle di un cane oppure quelle di un cervo. Alcuni hanno gli zoccoli, alcuni non li hanno, alcuni hanno dei genitali enormi. Sono nati per caso. Il bello dei bestiari, perlomeno quello che piace a me, è proprio questo, la casualità. E c'è una doppia casualità, perché già l'acquarello è casuale, no? Non sai mai come si asciuga, non sai se esce bene, ne devi buttare a cento prima di accettarne uno, oppure vanno bene tutti a cento. La casualità dell'acquarello, unito alla casualità della metamorfosi. E iniziamo per tutta questa superficie qui, il tempo facciamo in piedi, il tempo non vuole, e iniziamo per tutta questa superficie qui, il tempo facciamo in piedi, e iniziamo per tutta questa superficie qui, il tempo facciamo in piedi, e iniziamo a tenere lunghe, ci sentiamo per tutta questa superficie qui, il tempo facciamo in piedi, Grazie a tutti. Grazie a tutti.